Accolgo con sollievo la notizia che preoccupava molto il territorio, il fatto che il ministero si sia espresso su progetto anticipato quella che era un'azione che noi stessi stavamo portando avanti. Così il sindaco di Sulmona, Anna Maria Casini e i microfoni di onda TG all'indomani della bocciatura del progetto autostradale di Strada dei Parchi e dell'imprenditore Toto. Accolgo con un certo sollievo questa notizia che preoccupava molto il nostro territorio, Sulmona con tutti i sindaci della Valle Peligna e dell'Alto Sangro avevano già espresso il loro dissenso a questo progetto. Il fatto che il ministero si sia espresso ha anticipato quella che era un'azione che noi stessi stavamo portando avanti. Tutti i sindaci della Valle Peligna e dell'Alto Sangro avevano già espresso il loro dissenso. È una buona notizia ma ritengo che questa vicenda abbia riportato al centro dell'attenzione il tema della mobilità e delle politiche infrastrutturali, spiega il sindaco Casini. Io ritengo che questa occasione abbia riportato al centro dell'interesse della politica di questo territorio il tema della mobilità e delle politiche infrastrutturali. Passata l'emergenza legata all'infrastruttura che abbiamo valutato così dannosa e impattante, l'auspicio è che ci si possa ricostituire per un fronte diverso e propositivo in modo tale da riuscire ad avere un'interlocuzione con la regione e il ministero per ottenere una politica infrastrutturale che favorisca la crescita e lo sviluppo del nostro territorio, conclude il sindaco. Ci si possa ricostituire per un fronte diverso, propositivo e riuscire ad avere un'interlocuzione con la regione e col ministro perché ci sia finalmente per questo territorio e per le aree interne che noi rappresentiamo una politica reale, infrastrutturale e di mobilità che favorisca lo sviluppo di questo territorio.